Io penso che quando ci sono queste partite l'unica cosa che si deve fare è dimenticarsi del prima possibile come abbiamo fatto oggi, abbiamo parlato e abbiamo chiarito tra di noi quali sono stati i problemi di ieri come ho detto bisogna dimenticarsi del prima possibile e pensare subito a mercoledì per fortuna che c'è una partita in cui ci possiamo rifare conta solo il risultato, lo sappiamo e quindi già da oggi stiamo pensando già a mercoledì Quanto male vi ha fatto, quanto vi ha scosso lo striscione che avete trovato ieri sera? Fa male perché comunque noi ogni partita ce la mettiamo tutta, noi entriamo in campo dicendo che non mettendoci la giusta cattiveria il giusto sacrificio, noi tutte le partite le affrontiamo in questo modo Purtroppo come ho detto sono domeniche che vanno dimenticate al più presto appena fischia l'arbitro bisogna fare un passo indietro e come ho detto pensare subito alla partita di mercoledì che è importantissima per noi Sicuramente è fluido perché io c'ero a Sturno, sono arrivato a Sturno e di questi che siamo adesso eravamo in quattro quindi è normale chi non ha fatto il ritiro, chi per un motivo, chi per un altro Spero che, penso che a gennaio prima del 10 qualcosa faremo sicuramente per mettere i minuti nelle gambe, per mettere un po' di forma però ripeto non bisogna trovare alibi, scuse, sappiamo tutti quello che è successo all'Avellino dopo la partita con la Turis un periodo dove stava andando benissimo, il Covid comunque ci ha bloccato, è evidente, è evidente a tutti adesso bisogna uscirne tutti insieme senza stare a parlare e trovare giustificazioni Gabriele, quindi questo è anche un problema psicologico, diciamo, non derivante soltanto dall'ultima gara perché a volte è vero, la squadra subisce dei veri e propri blocchi Sì, ma come è successo ieri, quando comunque prendi due golle non è detto che la partita poi finisca così perché comunque 2-0 c'è tutto il tempo per rimontare, in questo momento non so, quando prendiamo questi gol ci disuniamo non so che pensare, però so che il gruppo è unito, il gruppo c'è e quindi tutti insieme non usciremo fuori perché l'abbiamo dimostrato anche in tante occasioni